per dire siamo già in tre siamo in tre perchè eravamo in 4 adesso siamo in 3 prima era impossibile adesso è infattibile è improponibile la partita devi essere proprio fatto per il cavallo a passare la vittoria non ne vedi lancio una ENP completa la missione sei l'ultimo rimasto attraverso attraverso non posso dire dai ma visto quanti cazzi di colpi li ho fatto da atto ma che cazzo di valuto io ho messo nel corpo 730 colpi vaffanculo ci stai per fare full team contro quasi tutti platino io ho fatto 07 e 06 mi ha tolto niente l'unica cosa fanny è che quello davanti a me si chiama ebola ids gli schieri fanny dai abbiamo un dragon wolf con noi e un team probabilmente messo sulla casa mr dylan 38 era in lega oro poi non lo so tonio 42t è su youtube quindi big video big prestazioni fortissime anche per me big zero mille proprio va borsi in da video eh in da video tonio 42t adesso registra e gli chiamo sette stelle contro così attenzione words non si riesce a connettere probabilmente che crescerà ma non mi dire solamente con noi anche caso del destino ma dov'è? metti so ah è dall'altra parte ma questo non entra è un 3.4 hanno girato lo spawn ma io non sono ancora morto e' le ultime parole famose però questa e' vabbè ma se vuoi mettere l'rcxd è inutile l'rcxd come ricompensa ma almeno per farlo e' tanto nello stesso non ci arrivo mai ma pareccole volte che abbiamo sono dati mega nabbi ma perchè abbiamo uno spawn dall'altra parte noi? eh perchè lo stanno controllando loro ma se non riusciamo a girarlo postazione nostra merda ti dirò che se fossimo stati in in quattro forse ce la facevamo così non lo so si ma non sono così forti eh appunto questi e che sponi male più che altro aspetta io sono one shot e non mi rimetterà mi butto lo vedo ma era invisibile era nella postazione ma non lo vedevo neanche sono va vaffanculo andiamo alla prossima andiamo alla prossima che è inutile che pusham tanto non ce la facciamo neanche arrivare c-d eh ci provo mica altro vedo se ci sta gente hai detto presi tu sta in postazione io controllo ogni tanto quello sta lì davanti sento che ce n'è uno qua da me aspetta che scomparo scomparo un'altra volta preso preso ma vengo andato avanti nooo mi hanno uscito è entrato l'alleato dai ho un shot ce la puoi fare ma questo qua almeno è forte e sveglio questo qua abbiamo insieme adesso ma che rimuettra uno di lì davanti bravo eh cosa faccio di challenger con il fucile a pompa ma che uno dietro cazzo uno dietro uno dietro dai so sponato bene dai tengo degli ultimi punti no non ce ne posso credere erano in due questo stava sparato mezz'ora non mi ha sparato vaffanculo aspetta che io no l'ho visto che ero nell'angolo si ma ci avevi fatto sparare dall'altra parte mi ha fatto dai alleato aspetta che cerco di venire a prendere gli spawn rimani dentro non challenger non challenger sono morto e non recupero mai la vita c'è un gioco di merda a cazzo cazzo compasso a dai dai no ce ne vanno fuori dov'è sono tutti la prossima cazzo postazione conquistata chi usciano questi non ho lasciato che vengono non lo sponso il fatto che qua il nostro nostro merda Vai, ho preso lo spawn, buono Cioè, questo qua non è morto, gli ho buttato un Aelostorm in testa Ma sì, ce la facciamo ancora fare, fanno cagare, tipo Cazzo, non l'ho visto, perché stava lì? Togno, stavo facendo 2.15 Tu resta dietro a sto muro, non è il trepassare, che almeno tieni pure lo spawn Merda, ok Cazzo di Buldawad Vorrei mettermi la R Vai, stai nella posta Uno da me No, ma mi ha sciuttato questo qua, aveva parecato, aveva schiavo No, sono spawnato all'altra parte, ho usato l'RCXD per baggio Cazzo Questo è veramente uscito dalla postazione per uccidermi e non ce la faccio No, sono un altro dietro, un altro dietro, un altro dietro Eh, perché non c'avevamo gli spawn Vai, ce l'ho fatta No, c'è un altro dietro per me No, erano in 3 No, erano in 3 C'è la saren in 2 perché ho non l'ho chiuso Comincia a ruotare, corna Cazzo è dietro di me Merda Manci hanno notato lo spawn, stanno ruotando Eh, sono morto Stanno ruotando, cazzo E infatti mi hanno killato Devo riuscire a prendere lo spawn Ok, dai, ho fatto spawnato qua questo già Ma vaffanculo, il cecchino quello Ma ho fatto spawnato all'altra parte del Gesù Aspetta, metto la N No, metto finiti colpi Ma qua, dove, dove è? Cosa cazzo ho fatto? Cosa cazzo ho fatto? Ho letto, non molto meno tutto Eh, tienilo, tienilo Occhio, c'è uno col fuggito a pompa lì davanti Dai, gli sono spawnato bene No, dopo devi venire nel cinema, ti prego Ah, io tengo lo spawn Ok, c'è uno dentro la casa Ok, c'è neanche un altro No, mi hanno ucciso l'ultimo Merda Andiamo a vedere che uccidero prima di farlo arrivare all'altra E no, mi ha ucciso ancora con il cecchino, a culo Vai, arrivo Però abbiamo lo spawnato all'altra parte Non so, per qual mi arrivo Eh, perché stanno tutti dietro Muori? Può per immorciare quello Eh, cazzo No, devo mettere Sì, ora ho vittato da loro Dai Dai, ci stiamo vincendo Stiamo vincendo Già lo facciamo adesso Vai, ne ho usciti più dentro Bravo Vedi, che serve Oh, merda Oh, sai che si lancia la lampa Magari faccio qualche punto No, però ho impattuto qualcuno Ecco, arrivo Boh, allora ti mandate quando usate il fulmino e l'estero Sì, sì Tento, ok Eh, ovviamente non dircelo che era un nemico Eh, c'era un gioco di merda Dai, io c'ho le stritte No, mi ha ucciso Boh, che glielo butto Delta Sì, sì, lancia C'è il fulmino Perché li avete uccisi? Io ne abbiamo ucciso Dai, ci abbiamo visto un buon Aspetta che li uccido Oh, non lo risponde Sto lampando tutti Sto lampando tutti No, mi sono sveicchitato Mi sono lanciato da Ertormi in testa Non sapevo chi lanciarlo O l'ho lanciato su di me Praticamente ho fatto le serie di punti che Ertormi sono stati inutili alla fine Vedi, ce l'abbiamo fatta contro quelli con i megaforti Eh, i megaforti Erano in full team ma hanno guettato Vabbè, io si tenera un oro Adesso Mi sono impassato due minuti Ma che forti siamo stati, però Dov'è l'ultimo? Dai, voglio un'altra strida No, ma gli ho sparato Gli ho dati gli spawn boi, mi scusa Gli ho usato la baletta Voglio fare la col team Voglio fare la col team Per ormai Mi sono messo a fare gas 33 e 23 di porn Occhio Eh sì Finché abbiamo a Dragon Wolf con noi Guardalo Questo come era sexy con quelle gambe come era messo No, adesso devi venire nel cinema però di prego Sì, è fatto il pezzo assurdo, l'ho visto Più 150, così c'è il 30 NMLG pro player Eh? Vuole andare nel cinema Eh? E pensavo che... Vabbè, vabbè, ormai abbiamo questa Però bandiera Forse non possiamo guidare Qualche streak buona Aspetta che me li alzo Guarda ormai No, no, fraccia poi No, no, ce l'ho alzata già Ora non farò nulla Sicuro Perché tipo in quella frazione di seconda sono rimasti immortali per sempre Sì, è un po' Guarda ormai Guarda ormai Enabled Mamma mia, vincere un 3 contro 4 con porn è stata un'emozione unica Eh sì Sei andato... hai fatto i pezzacci? Sì, ho fatto tipo... Secondo me mi meritavo un trofeo Gioco così bene No, ci abbiamo già un fucile a pompa contro Buono, il fucile a pompa che cazzo fai su Rai? Eh, borsa Rai, se lo vuoi dire Eh, sullega, sullega mica No, 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 merda Prendi la bandiera Ci pensa a buco occhio, ci pensa Ci pensa a buco occhio e speriamo non uccide Sì, sono io al fulmine Bravo Tipo l'accoltellata è morto tre ore dopo Sì, ti dico dove stanno Ok, non è morto No! Ma vaffanculo, esplosa la macchina senza motivo Ma vaffanculo, ero in street, porco Dio Ma ti hai buttato sopra il fulminio No, esplosa a caso, vaffanculo No, hai buttato il fulminio poi esplosa, ti avevi fatto spodere tu No, no, non era per il fulminio Era perché era incendiava, porca miseria Che rilegare Che benel C'avevo lo sterile Quasi Almost Questo non vuol dire che non lo posso richiamare Tanto c'è il numero adesso Vabbè, questo qua mi ci deve quando sono ormai già dentro di lui Però, scusam Scusam No, andate a correre Convinto, bror Per la bandiera Amanda Mi morirò E' infatti Così tipo io, i miei nemici non ci sono poi appena prendo la bandiera Infini Appai non so come sono riusciti a riuscire ma ricordate per la bandiera lo scappò sto finito ma buono se non vuole a presto no vaffanculo c'era pure perchè porta bandiere di me per cercare di farsi le stricte questo valeva la tua diveta corporea non è il cavolo di chi tanto per cambiare no oggi mi ha dato che era questo ne stavo solo sparato tipo fermo se mi metto la msmc vincolo mettiamolo anche se un bel m8 fa comodo no uccidi no compagno di squadra lo fermo io vabbè se il gioco è deformato c'è 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 il mio marcio c'è 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 il suo no cazzo però che pollo il sito di percorso mandiero ieri ma sono a te forse c'è 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 morto quello no la prendo io la bandiera abbiamo la bandiera tento ce n'è una dietro davanti il culo faccia bocca negro corri corri non ce ne so no dove vai aveva bandire stricchi e che c'è anche un euro no la vettura c'è lucido guarda oddio erano tantissimi ma non la fanno non la catturata ma non la catturata ho fatto 3 assist 3 assist 3 assist 3 assist 3 assist quanti 3 assist 3 assist play the game 43 ta 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 le doppie ok ritorni ritorni 3 3 2 4 0 il doc 3 3 2 4 0 sono i maestri platino non è vero proprio proprio tutti secondo me lei capito da risultati gli ho sparato 7 colpi in te oh ma si te la demoni che vuole non so ahahah ahahah scappo con la bandiera appena inizia a round cosa cosa vai 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 cosa no muori vuoi portarlo stronzo che ho davvero portato la bandiera appena inizia la partita ma va fai ma che forte il form mi ha fatto fortissimo il torno mi ha fatto fortissimo il torno quando l'impegna ahahah no cosa mi sei tornata la macchinina non non shit merda ma vaffanculo c'è uno dietro sto stronzo cosa ma è male visto ha fatto tipo l'agide si ha fatto le agideissimo viti ma poi ha ballato nel cielo tipo ha fatto l'agide beauty ma basta ma se vuole questi questo cazzo di silenziatore è un po' per cazzo sono una figlia sicurezza sui silenziatore in realtà è la pompa il m8 fa cagare il cazzo ah ah nitro abbandonato anche questo e nitro non repiti come prima sei solo un vecchio ho raccolto una n col silenziatore quindi è da figlietta allora mi viene e metto un vector attento ce n'è uno 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 dove 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 c'è la bandioca dove devi portare la bandioca ma si ma non porti la bandioca dioca no nessuna uccisione non la porto che non la porto la bandioca dioca no e allora bandiero quanti punti di dati la conquisti? 200 sei sicuro eh non è vero ok c'ho lo stesso si si c'ho il drone di scorta si io lo lancio oppure ho bene si distruggiamoli internamente ma si ma si con cosa ci frega uccidiamoli nell'interno ma io ho fatto 6 kg dalla partita not bad saccia pro no prendo io la loro arma voglio vedere che cazzo fanno oh ma sono deforme oggi cioè solo in questa partita fare che strozzo e sai quindi cosa faccio? metto il secchino e libri cofio no no secondo me adesso faccio pam 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 quickscop sicuro dove siete nascosti? fra oggi eh quickscop ti avevo detto il secchino alla fine della partita ritorna per il territorio non riesco a correre non mi ha detto ma nello della bandiera sono inciso hai morto abbiamo la bandiera cecchino e ovviamente mi citta da altri compagni di squadra di qua ti va parcs versaglio eliminato vuol rimarla col kim vuol bianco al cecchino no ci ho fatto yeee 7-19 troppo sacciapro troppo sacciapro che challengeata divina qui poteva anche morire la favo io favela favela più il 2047 questa partita ho entrato in partita e ne aveva un altro sono andato per vedere contro un full team con due platino insieme Magina e Bruno del boss postazione, dai, ce lo possiamo fare insomma sono andato a vedere sul suo profilo non ti faceva neanche accedere, diceva impossibile tipo neanche sul coso PSN ti faceva accedere tipo errore di sistema e ti elencava un errore eh, quello lui non esiste lui no no, non esisteva proprio cioè provavi ad andare a vedere i trofei non te lo faceva fare non ti faceva neanche... si ma se magari questi... ok sono entrato sbaglio stiamo andando velocissimi perchè siamo andando... no non stiamo andando velocissimi con la corsa no mi sembra di andare veloce non è normale non mi vale ma... spero di avere una kart in cielo no no non potevo avere io la in bottalmine stortente lanciata fate proprio gorshi con l'omazueb ci siamo... ci siamo svegliati che sono morto oh una c'è la... c'è un attacco gorshi con l'omazueb c'è un zeub zeub no che scioglomo zuweb ahhh lancio una sensazione buongiorno ritardati in era uno di questi guardava con lo scudo davanti non lo uccidevano ma non mi fa pena no nemico no era nostro dovuto uccidere io e ce n'è un'altra però no che è da dietro da dove stavo coprendo io ce n'è un'altra perchè l'ho ucciso non mi fa correre ok è partito merito ma che ce ne ho no ma si stanno dietro non fatta prendermi ma vaffanculo ce ne stavano 1 ma la metà ieri dietro a quelle macchine per lì faccio sto io no il vero ma vaffanculo sto cazzo di rc si è merda sto stronzo ma ucciso si è ucciso ma ucciso ma ucciso sul coso sul coso e ha fatto bene e ha fatto bene un gatto visto che era nostro c c godo e una pagina 141 ma i canali per gli anni per il discorso a macchina però l'unità k9 quindi really good e non va bene per 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 l'uomo no non veni qua me ne ho detto ma mi detto tu di te eh si però non veni nello stesso angolo in cui sto io perché sei nelrano. abbracchini sì sì me ne vado me ne vado Ehm, I'm botted proprio Sei contento che abbiamo i compagni buoni stavolta? Ah sì, anch'io sto facendo 6-8 per inizio la partita Not bad, ma saccia a good gamer Give me a punching di brioche Questo qua mi ha ucciso, sono morto Non sono più in serie per il mio shame Io ho le streak Io ho ucciso M8-1 Cittolearmi Scusa, scusa, è colpa mia, lo sai vero Perché? Perché ero di esistenza, non ti voglio andare indietro Ah vabbè, non me l'ho mosso, non è un problema Vai, vai verso la centrale, verso la centrale Non lo creare Me l'ho uscito con un colpo di culo faccia Stricchia, fordettri e ca Morite tutti, facci di bella Come ci sono? Ehm, è l'unico che stava in postazione E' vero tutti, è un gruppo unico di Di deforme, lo ho fatto in infiniti Ma come faccia davvero una chiama di metri 100 punti in più Ah, perché io ho intorno a prestazioni Fatto Io conquisto Quattro marzo adesso Ma basta, mi uccidono sempre Ah, lo sponano Sì, non mi uccidono sempre Sì, non mi uccidono sempre No, non abbiamo girato, siamo dei deformi Ne uccisi tre, vai Sanno però come si tiene lo spawn, quindi Ok, l'MSMC non funziona in questo partito No Rimetto il vector Ok, adesso ho sparato il mio merda Ma vaffanculo, come adesso sapeva questo che stava qua? Anzi, ormai aveva visto L'ho girato lo spawn, va Che è sto elicottero, oh Eh, va bene, gli apro Eh, no, è la GR Il cazzo è il gap, non so valisi su lega Vai bene Eh, gira, 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 gira Sto ancora lì L'hai succiso Sì Non me l'aspettavo C'è un cane morto, eh Ve lo sento l'esempio Sì No, vaffanculo, mi è venuto da dietro, sto stronzo Oh, ma non morono Ok, c'è uno da money Eh, gli sto sparando, ok, lo faccio Ho preso Non sta rimando uno da davanti Ho fatto doppio assist perché Bruno De Boss mi incula Merda, giriamo Eh, è scaduto magina Ok, non già gira, sapore Poco, shish Merda, 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 merda No, la treme ho trovo Ma dai, vaffanculo però What the fuck Niente mi aveva visto, già era morto Ammaggini alla mia faccia, va infinite e seri di monti Sì, era lui La dai, che coglioni Sì No, non riusciremo più a entrare in postazione, che coglioni Ce l'ho fatta, sono ben idrato Rimani un attimo dentro Sì Come c'ha fatto a uccidermi, con il tuo giochino di merda Ma questo qua è mortale, Bruno De Boss No, vaffanculo quello con il cecchino Volevo accoltellarlo, non ci sono riuscito Ma ero in tre, ho fatto tomare da tutti e tre Ma basta questo, con questo cazzo di cecchino, ho rotto gli coglioni Ma sciotta Adesso gli faccio vedere io come c'è la cecchina Gli faccio vedere io come c'è la cecchina Gli faccio vedere io No, te prego, mettete le armi serie, eh Che già stavo, cioè stavo a fare via Porco Dio, porco Tra l'altro ho fatto appena mi hai detto metti le armi, subito mi è arrivato da dietro e l'ho ucciso Perchè sono a aver paura io tetto tetto dietro bravo teniamola così o contestiamola così almeno vinciamo eh abbiamo già vinto tanto non ce l'hanno dai voglio mettere cichina a fare l'ultima kill vanno a rinforzare vanno a rinforzare vanno a rinforzare si l'ho fatta io no ma stavo facendo ho chiesto il bottone senti abbiamo vinto dai non è rotto forse si vede io che compai aspetta dopo l'esplosione sono comparso io in quella casa no no e vanno a vincere contro un full time ho fatto più 150 dai più 10 più 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 Sì